Ciao a tutti, io sono Gianluca. In questa lezione vedremo come calcolare la media dei valori contenuti all'interno di un array. Definiamo un array con interi e magari dei float. Come prima cosa facciamo la somma, calcoliamo la somma dei valori contenuti. Quindi utilizziamo semplicemente la funzione ArraySum. La media, in modo ancora più semplice, la calcoliamo così. Dollaro somma diviso il numero di elementi contenuti all'interno dell'array. Facciamo un eco. E vediamo che cosa abbiamo. La media è 43,85. Bene, per questa lezione è tutto. Ci vediamo nella prossima lezione.